Avverto il peso di questa decisione forte, ma l'abbiamo fatto in virtù di una circolare del Ministero della Salute che ci dice che la variante Delta è in arrivo. Io non penso di aver limitato la libertà perché, ripeto, noi consentiamo tutto quello che è giusto e necessario fare, cioè andare a fare la spesa, andare a fare una passeggiata, camminare tranquillamente nel centro del nostro comune, della nostra comunità. Diciamo solamente che siccome la normativa nazionale ci impone di evitare assembramenti, di evitare calche, perché così si generano i contagi, abbiamo solamente detto che in occasione dei grandi eventi dobbiamo stare più attenti. Io penso che sia una decisione che loro hanno preso bene, anche perché va a tutela loro, dei loro figli e delle nostre famiglie. Mi auguro che tanti colleghi prendano spunto da questa ordinanza, perché è troppo importante il diritto alla salute. Il diritto alla salute viene prima di ogni altro diritto.